Cari amici, parlando dei seguaci della società Torre di Guardia o Watchtower, questa casa editrice che ha sede negli Stati Uniti e che produce materiale a divulgazione religiosa, parliamo del materiale distribuito dai testimoni di Geova, sono curioso di vedere con voi l'impatto che questo culto ha avuto in alcuni stati che noi prenderemo a campione, che io prenderò a campione, a campione non tanto perché comunque ci riguardano, allora vediamo per esempio in percentuale quanti sono i testimoni di Geova negli Stati Uniti, negli Stati Uniti dove questa organizzazione ha sede. Gli Stati Uniti dunque ha un numero di abitanti pari a 332 milioni, quasi 333 milioni, di cui 1.255.657 sarebbero testimoni di Geova secondo quanto dichiarato dal sito ufficiale degli Stati Uniti. Dunque facendo due calcoli matematici molto veloci che io ho già fatto a monte, lo 0,37%, cioè parliamo di manco lo 0,4%, neanche lo 0,4%, non stiamo parlando dell'1, siamo al di sotto dell'1%, quindi siamo al di sotto dello 0,4%. Pensate che gli Stati Uniti, si trattasi di stati a prevalenza protestante, quasi metà della popolazione degli Stati Uniti sono protestanti, solo il 20% sono cattolici. L'1,6% sono mormoni, ma i testimoni di Geova sono poco popolari negli Stati Uniti, meno dello 0,4%. Interessante, vero? Ora passiamo ad analizzare invece un altro Stato, la Germania, ecco, andiamo in Europa, la Germania. Quanti sono i testimoni di Geova in Germania? Avete mai fatto una proporzione? Allora, gli abitanti sarebbero 83 milioni 121 mila. Il testimone di Geova, secondo quanto dichiarato dal loro sito ufficiale, sono 167 mila 328, che, appunto, facendo due calcoli veloci, che sarebbe questo? No, non è questo, perdonatemi, ecco, questo è il grafico che riguarda la Germania. Quindi, stiamo parlando, no, no, questo riguarda gli Stati Uniti, perdonatemi ancora, era questo, ecco. Quindi, 83 milioni di abitanti, 167 mila sono testimoni di Geova, lo 0,2%. Raga, ma ci rendiamo conto? In Germania sono letteralmente quattro gatti in confronto alla popolazione. La Germania è uno Stato in cui circa il 40%, signori, il 40% circa, sono atei o al limite gnostici. Poi c'è un altro 25% di cattolici e altrettanti di protestanti, più o meno, qualcosa in più i protestanti. I protestanti sono leggermente di più dei cattolici, ecco, in Germania. Ma ha una percentuale bassissima, circa il 40%, quindi la stragrande maggioranza della popolazione sono atei o gnostici. In Testamento di Geova, praticamente, non se li caga quasi nessuno in Germania. Scusate l'espressione, ma vorrei essere pratico. Cioè, vuol dire che se dovessimo fare un rapporto all'italiana, c'è, su ogni 10.000 abitanti, avete presente paesi da 10.000 abitanti, su 10.000 abitanti ci sono appena 20 testimoni di Geova. Questo è l'impatto che questo culto ha in Germania. Ma in Italia? In Italia il sito ci dice che sono 60 milioni di abitanti, in realtà siamo sotto i 60 milioni, a guardare bene l'ultimo censimento. Comunque, 251.490 sarebbero i testimoni di Geova, sono scesi, sono diminuiti in Italia, erano 255.000 fino a poco tempo fa. Quindi, a conti fatti, vediamo il calcolo della percentuale dei testimoni di Geova in Italia, poco più dello 0,4%. In Italia i testimoni di Geova, rispetto alla popolazione, sono neanche l'1%. Ne ha meno della metà dell'1%, poco più di 0,4%. Questi sono i risultati ottenuti da questa organizzazione, nonostante il suo fare proselitismo porta a porta, in maniera ossessiva, intensa e programmata, eccetera, eccetera. Nonostante il loro impegno, il loro lavoro. Ecco, questi sono i numeri del popolo della società Torre di Guardia, i seguaci, i distributori dei contenuti di questa casa editrice americana che si è arricchita grazie a un numero abbastanza contenuto, rispetto alle popolazioni locali, di distributori che a gratis si sono messi al lavoro per distribuire carta stracci della società Torre di Guardia.